E bene, carissimi amici, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Una buona serata a tutti voi. Siamo nel nostro appuntamento insieme di analisi e estrazione, quindi per quanto riguarda proprio l'estrazione di martedì 20 di agosto. Andiamo a valutare quello che è successo in questo quadro estrazionale. Allora, un'altra estrazione dove ci sono dei segnali molto incisivi per quanto riguarda l'uscita del 90, che arriverà molto forte, io già ve lo sto annunciando. Ancora sulla ruota di Bari ci sono bei segnali. Il 45 in terza posizione, molto bello. Il 20 e il 9 sono tre segnalazioni importantissime che confermano il mio metodo spia 57 con i 5 ambisecchi sulla ruota di Bari. Chi non ha preso questo metodo lo faccia adesso. Chi non ha acquisito questo metodo lo faccia adesso. Perché poi molti stanno a guardare e chi mi dà fiducia si intasca agli ambisecchi. Quando invece a me piacerebbe che fossimo di più ad andare ad incassare. Metodi spia potentissimi. Unica ruota di gioco con il grande 90 con i 5 ambisecchi. Unica ruota di gioco. Si paga vincita venuta solo di ambosecco. Il metodo rimane sempre vostro. Quindi è una formula che non potete non acquisire. 348 75 47 715 per contattarmi via whatsapp ed accedere al gioco dei miei metodi spia. Notate come ciò che dico sempre è ormai una realtà assodata. Come tra le ruote di Bari Cagliari ci sia scambio numerico. Il 45 di Cagliari era sortito in due estrazioni consecutive. Questo 45 si va a capovolgere guardate questa sera sulla ruota di Bari. Esce il 20 su Bari questa sera che potrebbe andare a Cagliari ed è l'ambata del metodo ambata perpetua. Quindi potrebbe andare a Cagliari perché molto spesso le ruote di Bari Cagliari danno scambio numerico tra le due ruote. Abbiamo anche un metodo spia sulla ruota di Cagliari. Guardate Cagliari questa sera. Somma 90 57 e 23. Somma 90. Poi abbiamo la doppia cadenza. Attenzione 43 23 31 41. Quindi Bari Cagliari ancora coppia di fuoco. Anche Cagliari abbiamo la spia 53 di Firenze che vi ho presentato con il 90. Unica ruota. 5 ambi. Unica ruota. Quindi Bari Cagliari in 90 secco in quarta e quinta posizione. Bellissimo. Bellissimo. Da giocare assolutamente. Poi vediamo cosa abbiamo. I due numeretti su Firenze 2 7 fanno figura 9. Bella situazione. Poi abbiamo. Vediamo un po'. Palermo che porta la cadenza 6 in terza e l'ambo vertibile 26 62 e anche abbiamo la cadenza 9 unita 49 69. Somma 90 sulla ruota di Roma di Zerati. Molto bello. 70 e 20. Cadenza 6 in terza anche a Venezia con 46 e la cadenza 1 1 21 unita. E poi abbiamo distanza 1 3 4 ruota di Torino. Allora ci sono diverse situazioni su quadro estrazionale. Però chiaramente secondo me la situazione migliore con il 90 l'abbiamo su Bari Cagliari. Vi ricordo che abbiamo anche un bel Venezia in gioco con le mie spie. E sono metodi da non perdere. Perché chi segue assiduamente le mie spie poi va ad incassare. E va ad incassare bene come è successo con il doppio ambo il 27 luglio sulla ruota di Bari. Non c'era successo un anno fa. E' successo il mese scorso. Quindi mi raccomando a non perdere i miei metodi spie. E poi mi raccomando alla mia trilogia. Perché data base, data plus e data super sono tre metodi che sfruttando la data di estrazione sono andati a realizzare vince settimanali veramente importanti nei quattro colpi di gioco. Perché sono quattro i colpi alla fin dei conti. Perché noi calcoliamo la nuova previsione al sabato e la mettiamo in gioco per i quattro colpi settimanali. Vi ricordo che per avere la previsione completa voi avete a disposizione un solo abbinamento da giocare a bambetto. Si paga solo se si vince. Anche qui trilogia la data opera inestimabile di valore assoluto. 348 75 47 715. Contattatemi via whatsapp per accedere alla data. Metodi incredibili cari amici. Che vinciti abbiamo ottenuto settimanalmente. E quanti di voi seguono il calcolo regalato sul mio canale youtube in presentazione di metodo. E vanno a vincere settimanalmente estratti determinati. Quindi attenzione. Dai miei metodi non vi ho fatto vedere la scorsa estrazione che abbiamo vinto anche con il metodo Venezia da sbanco. Con l'11 sulla ruota di Venezia. Vi ricordo che i miei metodi li potete acquisire o in versione singola o in versione pacchetto romozionale. Sempre contattandomi via whatsapp. E lo sapete che dal diario del mister arrivano sempre vinciti importanti ogni mese. I miei metodi valgono sempre. Sono sempre vincenti e vanno alla grande. Seguiti chiaramente tutto con costanza e con fiducia nel gioco. Quindi chi vuole acquisire i miei metodi o i miei software può farlo contattandomi via whatsapp. Come sempre. Vediamo se possiamo dire ancora qualcosa. Intanto ci daremo appuntamento dell'estrazione di giovedì 22 di agosto. Vediamo cosa andrà a succedere. Vediamo se possiamo dire ancora qualcosa su questo quale strazionale. Se c'è ancora una situazione da poter commentare. Mi sembra che ci siamo. Mi sembra di no. Quindi ci diamo appuntamento giovedì e vedremo cosa andrà a succedere. Per adesso saluto a tutti. Mister Sbancolotto.